Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Oggi 6 aprile, giornata del ricordo e del dolore per la dodicesima ricorrenza del sisma dell'Aquilano. Cerimonia ridotta ieri sera a causa della normativa anti-covid, ma non sono di certo mancati i momenti toccanti per commemorare le 309 vittime del sisma del 2009. Il servizio di Andrea Costantini. Nel dodicesimo anniversario del sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 resta straziante il dolore per il ricordo delle vittime. Una cerimonia, quella avvenuta ieri sera, che è stata per forza di cose condizionata dalla normativa anti-covid che ha impedito per il secondo anno consecutivo lo svolgimento della fiaccolata per le vie del centro storico. Non sono mancati invece i 309 rintocchi delle campane in memoria delle 309 vittime. E poi ancora l'accensione di un simbolico bracere da parte di un vigile del fuoco, posizionato davanti alla chiesa di Santa Maria del Suffragio. E sempre da Piazza Duomo, cuore del centro storico, ed esempio di una ricostruzione efficace, un fascio di luce che si è stagliato verso il cielo. Nonostante le restrizioni, dunque, emozione e dolore hanno caratterizzato i momenti clou della commemorazione. Nel segno del ricordo, ma anche della speranza, sia per la rinascita della città, sia per un epilogo positivo della pandemia, all'Aquila si è chiuso nella serata di ieri il programma ridotto della cerimonia. Oltre al vigile che ha acceso il bracere, in una piazza Duomo praticamente deserta, erano presenti il sindaco Pierluigi Biondi, il sindaco di Cugnoli Lanfranco Chiola, in rappresentanza dei comuni del cratere, il prefetto Cinzia Torraco e il cardinale Giuseppe Petrocchi. Proprio l'arcivescovo metropolita dell'Aquila, nel corso dell'Omeria, pronunciata nel pomeriggio di ieri, durante la funzione religiosa ufficiata nella chiesa delle anime sante, aveva detto il dramma del terremoto ha reso ancora più popolo la gente aquilana. La comune tragedia, affrontata insieme, ha stretto, con nodi inscindibili, il mutuo senso di appartenenza. Quando un trauma che deriva da una calamità generale colpisce una popolazione, viene vissuto in modo frammentato, ciascuno lo porta per conto suo o per aggregati sparsi. Invece dove c'è popolo il dramma è condiviso, vissuto da tutti e da ciascuno in modo diverso ma universale. Nella mattinata di oggi il sindaco, prefetto e arcivescovo hanno partecipato alla cerimonia commemorativa organizzata all'interno della scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Poi a mezzogiorno, Biondi, il presidente della regione Marco Marsiglio, un rappresentante del comitato dei familiari delle vittime e il sindaco di Villa Sant'Angelo Domenico Nardis in rappresentanza dei comuni del cratere, si sono ritrovati davanti al sito della Casa dello Studente in via 20 Settembre per un altro significativo momento del ricordo in uno dei luoghi simbolo della tragedia. Questo è uno dei simboli probabilmente tra i più dolorosi perché quando colpisce i ragazzi naturalmente il dolore è ancora più intenso, però l'intera città dell'Aquila e tutto il cratere sismico, decine e decine di comuni furono devastati e le ferite ancora si vedono a occhio nudo, nonostante una ricostruzione che sta finalmente decollando, si comincia a rivedere una città restituita alla vita, palazzi che tornano a splendere di una bellezza che in alcuni casi da secoli non esprimevano più, quindi questo ci aiuta a sperare, a guardare al futuro con ottimismo, nonostante anche questo anno durissimo di pandemia che ha aggravato una situazione socio-economica già difficile da affrontare, però siamo sempre stati capaci di risollevarci, lo spirito di questa città e di questo territorio è indomito e indomabile e quindi sono sicuro che sapremo andare avanti e che il futuro ci riserverà grandi prospettive e soddisfazioni. Veniamo ora alla pagina Covid, quest'oggi sono 47 nuovi casi in Abruzzo, a fronte però di un numero piuttosto esiguo di test, tutti i numeri nel nostro bollettino. Sono solo 47 nuovi casi di Covid in Abruzzo, poiché pochissimi sono stati test nella giornata di Pasquetta, nello specifico nelle ultime ore sono stati analizzati 407 test antigenici e 1071 tamponi molecolari per un tasso di positività complessivo del 3,2%, il più giovane tra i contagiati a 5 mesi, il più anziano 93 anni. 36 dei nuovi casi fanno riferimento alla provincia di Pescara, 11 a quella dell'Aquila, 8 a quella di Teramo e nessuno a quella di Chieti. 178 sono i dichiarati guariti, mentre 14 i morti. Del totale odierno due decessi sono avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle ASL. I positivi accertati in Abruzzo sono attualmente 10.571, 145 in meno rispetto a ieri. Di questi 603 pazienti, 7 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 70 sono in terapia intensiva, dove per 4 persone che sono state dimesse altrettante sono state ricoverate. Gli altri 9.898 positivi, 152 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. La campagna vaccinale anti-covid dell'ASL di Teramo non si è fermata nemmeno a Pasqua e Pasquetta. In questi due giorni sono state vaccinate in provincia circa 2.000 persone e all'ospedale Mazzini in particolare hanno ricevuto il vaccino in 200 tra idealizzati e loro car giver. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. L'ASL di Teramo festeggia la Santa Pasqua e il lunedì dell'Angelo effettuando circa 2.000 vaccinazioni anti-covid sull'intero territorio provinciale. Una campagna vaccinale che non si è fermata nemmeno per le festività, decisione assunta dalla direzione strategica dell'azienda sanitaria teramana e dalle direzioni di presidio che hanno, a Pasqua e a Pasquetta, lavorato a pieno ritmo. In particolare all'ospedale Mazzini di Teramo, dove in questi due giorni sono state inoculate dosi a circa 200 persone tra idealizzati e i loro caregiver. È importante che abbiamo dato continuità all'attività vaccinale per dare un segno, come possiamo dire, tangibile che la nostra ASL è impegnata su tutti i fronti appunto per debellare questo virus. Abbiamo risultato opportuno non interrompere in questi giorni la vaccinazione. Di fatti sia nella giornata della Pasqua che ieri vaccineremo non solo qui all'interno ospedale ma anche in comuni del territorio. Giorni di festa per tutti e anche per gli operatori sanitari. Per questo i vertici dell'ASL di Teramo hanno deciso di far riposare il personale e di impiegare per la vaccinazione di Pasqua e Pasquetta solo le figure apicali e i dirigenti operativi dell'azienda. L'obiettivo è quello di testimoniare con le figure apicali che magari qualcuno pensa stanno sempre seduti dietro una schivania e invece c'è stata questa volontà di essere presenti in due giorni significativi come può essere quello di Pasqua e Pasquetta. Ci sono anche tutti i dirigenti, il capo dipartimento delle varie unità operative perché è importante testimoniare che la vaccinazione è determinante per uscire da questa situazione e per far sì che questa pandemia possa terminare. Bisogna vaccinarsi, bisogna vaccinare tutti, bisogna vaccinarli in un tempo ristretto perché anche Pasqua e Pasquetta non si poteva segnare il passo e di fatto non l'abbiamo fatto perché siamo oggi qui, così come ci siamo stati nel giorno di Pasqua, a vaccinare. Il crono programma della vaccinazione anti-covid previsto dall'Asla di Teramo da questo momento accelera. Sono previste 2.500 dosi al giorno e la discesa in campo dei medici di base. Terminato questo weekend di zona rossa, l'Italia è nuovamente a due colori e domani anche in Abruzzo riapriranno le scuole. Il suono della campanella arriverà fra timori e speranze. A Chieti, amministrazione Ferrara al lavoro per assicurare che il rientro sui banchi avvenga in sicurezza. Il servizio di Paolo Renzetti. Domani riapriranno le scuole. Nella nostra regione a Chieti l'amministrazione comunale è già al lavoro da diversi giorni per non farsi trovare impreparata, Sindaco, questa giornata che è comunque una giornata importante. Voi avete competenza sulle scuole primarie, sui nidi, le elementari. Qual è la situazione? Allora, la situazione generale per quanto riguarda la pandemia a Chieti è buona. Da 5 settimane abbiamo dati dei contagi in continua discesa o comunque in un ambito numerico costante. Nell'ultima settimana, la settimana santa, abbiamo avuto nei 7 giorni un totale di 62 contagi con una prevalenza di 123 casi su 100 mila abitanti e di conseguenza ben al di sotto della soglia di allarme che è di 250 casi su 100 mila abitanti. Quindi diciamo che è una situazione assolutamente tranquilla e in obbedienza al decreto ministeriale di riaprire le scuole nelle zone arancioni. Io ho seguito la prassi istituzionale e di conseguenza tutte le scuole di pertinenza comunale saranno aperte nella speranza che tutte le norme di prudenza vengano, come è stato fatto anche in precedenza, ottemperate a livello scolastico e nella speranza appunto che non ci sia un'elevazione dei contagi. Comunque era anche giusto ed è giusto che i ragazzi, i bambini e i ragazzi delle medie tornino ad una vita sociale importantissima per la loro età. Penso che si sia arrivato all'80% della popolazione intera scolastica e questo è già un dato importante e confortante. Ripeto, se le norme di prudenza e di sicurezza vengono mantenute, vengono perseguite con zelo, non penso che ci debbano essere ulteriori pericoli per i nostri ragazzi e per i nostri bambini. Nell'ultima settimana una trentina di persone sono state contravvenzionate dai carabinieri della Compagnia di Pescara. Parliamo ovviamente di violazione delle misure anti-Covid ma anche di un arresto per maltrattamenti. Sono state oltre 500 le persone controllate durante i giorni di festa appena trascorsi dai carabinieri della Compagnia di Pescara nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio. Più di 30 le persone contravvenzionate per violazioni in materia di contenimento del fenomeno pandemico, contestata una guida sotto influenza dell'alcol, arrestato in flagranza un giovane per maltrattamenti in famiglia. L'operazione è stata portata a termine nel corso della settimana santa. Ha interessato tutti i comuni della giurisdizione della Compagnia dei Carabinieri di Pescara, oltre alla città capoluogo, anche i comuni di Spoltore, Cappelle sul Tabo, Cepagatti e Pianella ed ha visto l'impiego massiccio di pattuglie dislocate nei punti nevralgici delle principali vie di comunicazione e nei centri abitati. In particolare a Pescara sono state elevate 23 sanzioni per violazione alle disposizioni in materia di contenimento del fenomeno pandemico a persone di età compresa tra i 20 e i 35 anni per non aver rispettato il divieto di spostamento infracomunale, non aver rispettato l'obbligo di permanenza in casa dalle ore 22 alle ore 5 e l'obbligo di indossare la mascherina. Cinque le violazioni contestate dai carabinieri della stazione di Pianella, quattro da quelli della stazione di Spoltore. L'arresto in flagranza eseguito per il reato di maltrattamenti in famiglia è stato invece eseguito sempre dalle gazzelle del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pescara a seguito di una segnalazione arrivata da una donna che, rifugiatasi in camera da letto per sfuggire all'ira del compagno, con il proprio cellulare ha contattato il 112. L'uomo che aveva sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento è stato fermato dai carabinieri che lo hanno bloccato nell'androne delle scale mentre si stava allontanando dal palazzo. Cambiamo argomento. L'amministrazione Ferrara ha presentato questa mattina in conferenza stampa a Chieti le novità riguardanti la politica ambientale dell'ente che punta alla lotta ai cambiamenti climatici. È stato presentato anche un ordine del giorno in Consiglio Comunale dalla consigliera De Luca. Si parla di ambiente, avete grandi idee per quanto riguarda la città di Chieti, c'è anche questo cambio di denominazione, se così possiamo dire, da assessorato all'ambiente e assessorato alla transizione ecologica. Che significa? In pratica questo ordine del giorno nasce proprio dalla considerazione di come questi cambiamenti climatici siano diventati un tema fondamentale e quindi anche nel nostro piccolo, anche a livello locale, si sta prendendo sempre più interesse verso questi temi e già visto che anche nel programma di mandato del sindaco che infatti ha ricevuto subito questo ordine del giorno, si parla appunto di sostituità all'ambiente con attenzione a ciò che comunque non vada a causare ancora di più il digrado ecologico degli ecosistemi. Con questa mozione diciamo che l'amministrazione si impegna a mettere in atto delle scelte politico-amministrative volte proprio ad azioni concrete che non vadano a aumentare le emissioni di CO2 o perlomeno quelle azioni che possano migliorare e incrementare tipo il verde urbano, la mobilità sostenibile, la ciclabilità con un'attenzione alla salute dei cittadini perché solo insieme con una corretta e concreta azione verso l'ambiente è possibile migliorare la qualità della vita di tutti. Quindi nel nostro piccolo con questa dichiarazione si cerca di sensibilizzare appunto la cittadinanza a porre in esso tutte quelle azioni che possano migliorare la qualità della vita, iniziare per dire da un uso corretto della differenziata o un risparmio dell'acqua, degli alimenti, cioè tutte quelle azioni che servono a avere un corretto uso più responsabile delle risorse di cui usufruiamo. Un nuovo modo di guardare al turismo e questo è l'obiettivo della Federazione del Turismo Esperenziale nata in Confesercenti. Scopriamo di più nel servizio. Oggi in Confesercenti si presenta questo progetto, un progetto ambizioso sul turismo esperenziale. Presidente, quali sono gli obiettivi e com'è nata questa idea? Innanzitutto bisogna ringraziare Confesercenti Abruzzo che ha avuto la determinazione, una visione lungimirante nonché necessaria per la nostra regione che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita oggettiva ed esponenziale del turismo attivo ed esperenziale. Mancava una rappresentanza autorevole e efficace per tutto quel mondo di quei professionisti, quelle figure che a vario titolo ma comunque qualificati operano e cercano di offrire in maniera integrata e qualificata la migliore proposta di turismo attivo in Abruzzo e per l'Abruzzo. Tauci, oggi si parla di turismo esperienziale, ma il turismo in generale è un settore fondamentale per la nostra regione. Voi come Confesercenti puntate molto su questo? Assolutamente sì, è il business più importante, è l'economia più importante della nostra regione perché è quell'economia che fa comunque vivere un territorio. Puntiamo tanto sul turismo, in questo momento stiamo attivando una nuova federazione per tutta quella che è l'esperienza che si fa all'interno del nostro territorio. È un momento importante perché, come diceva poco anzi il Presidente Paolo Setta, è il modo per far confluire all'interno di una federazione tutte quelle professionalità che oggi servono per far vivere il turismo. Infatti uno dei primi obiettivi di questa federazione è la lotta all'abusivismo perché abbiamo una forte concentrazione di persone che la mattina si svegliano e pensano di poter accompagnare turisti in giro per l'Abruzzo. Così non va bene perché si crea un doppio danno al turismo, si fanno tornare i turisti a casa senza quella giusta esperienza, ma soprattutto si crea anche un danno di carattere erariale. Quindi è una federazione che vuole accogliere tutti perché c'è bisogno di un sistema che sia a rete di tutta una serie di professionisti. Il turismo in questo momento ha bisogno anche di questo perché l'Abruzzo non è seconda a nessuno per territorio, quindi dobbiamo solo saperci organizzare bene. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Al culmine di una buona prova il Pescara pareggia Monza e continua a sperare nella rimonta salvezza. Torna al gol dopo un girone intero Setter che risponde alla rete del monzese Frattesi. Unica nota stonata la distorsione alla Caviglia, partita da Galano a inizio partita. Il giocatore in forte dubbio per la gara di Brescia prevista per sabato. Vediamo il servizio della partita e le dichiarazioni dei due allenatori Grassadonia e Brocchi. Esce dall'U-Power Stadium di Monza con un pareggio il Pescara che continua a restare aggrappato alla speranza dei play-out. Gara di sostanza e ben giocata per i biancazzurri in terra lombarda dove hanno tenuto testa per gli interi 90 minuti alla corazzata bianco-rossa. Giusto l'1-1 finale con il pensiero però già rivolto. La gara di sabato prossimo a Brescia dove il Pescara dovrà provare a portare l'intera posta a casa. Grassadonia ancora in emergenza conferma per dieci undicesimi la squadra vittoriosa con il Pisa. L'unica novità riguarda l'impiego dell'ex Macino al posto di Maestro. Squadra in campo con il 4-3-3. I Brianzoli rispondono con il 4-3-2-1. Dall'inizio c'è in attacco Boateng. Al sesto angolo di Galano è colpo di testa di Sorensen che mette di poco sopra la traversa. Gara subito godibile. Giocata a buon ritmo. Al dodicesimo armellino dai 30 metri. Tira di potenza andando a colpire la traversa nei pressi di Fiorillo che poi riesce a bloccare la sfera. Un minuto dopo Galano colpito in precedenza duro da Carlos Augusto è costretto ad uscire sostituito da Vokic. Un contrattempo non da poco per gli abruzzesi costretti ad una prima sostituzione forzata. Al sedicesimo Cristian Capone si inventa una conclusione velenosa a giro con il pallone calciato dall'ex Atalantino che finisce sul palo. Pescara vicino al gol parità nei legni con i biancazzurri in partita e con Odgard pericoloso al diciannovesimo in area monzese con un tiro che fa terminare il pallone a lato. Al ventiduesimo Boatenga botta sicura in area pescarese murato da Masciangelo. Sull'angolo seguente tiro cross di Delrico e palla in corner. Secondo tiro dalla bandierina di fila e palla a frattesi che di testa sblocca il risultato. Monza in vantaggio grazie alla solita ingenuità sui calci da fermo dei biancazzurri costretti così ad inseguire. 1-0 galvanizza la squadra di Berlusconi che trovato il gol continua ad attaccare per qualche minuto pur senza graffiare. Ile Delfino quando può attacca ma allo stesso tempo cerca di non scoprirsi. Nel finale di tempo al quarantunesimo ancora Capone pericoloso con Di Gregorio che per ora spinge. Il Pescara spinge poco dopo e Vocchici a sfiorare la traversa con un missile dai 28 metri. Biancazzurri anche sfortunati ma in partita nonostante il vantaggio locale con il primo tempo che si chiude sull'1-0. Nel secondo tempo gli ospiti partono all'attacco. La pressione abruzzese non produce però grandi effetti con il Delfino che rischia al diciannovesimo di subire il 2-0. Con Armellino che sbaglia un gol praticamente fatto a due passi da Fiorillo. Nel Pescara subito dopo spazio a Setter per Odgard con il 4-3-3 che resta modulo di base. Con il Pescara che al ventiquattresimo ha l'opportunità per il pari. Ma su Masciangelo il portiere del Monza è prodigioso. Il Delfino gioca e spreca visto che un minuto dopo è Setter di testa a mancare di poco il bersaglio grosso. I biancazzurri restano in partita trovando così il pareggio al 27esimo proprio con Setter che approfitta di un liscio clamoroso di Pirola mettendo il pallone alle spalle di Di Gregorio per l'ex attaccante del Chievo e il gol che mancava proprio dalla gara d'andata. Pareggio meritato con i biancazzurri che possono esultare e con Grassadonia che al 36esimo manda in campo gutto e Fernandez e Maestro per Belanova. Ma ci ne è Capone. Si arriva così ai minuti finali di partita senza grossi sussulti fino al 94esimo quando Colpani su punizione chiama alla parata salva risultato Fiorillo. Finisce 1-1 con la squadra biancazzurra ancora in gioco. Come dico sempre per me è sempre stata una squadra accesa. A parte il primo tempo con l'Ascoli e in assoluto la partita di Vicenza dove non ci siamo presentati poi la squadra ha sempre avuto la sua fisionomia. È chiaro che come dicevo la settimana scorsa le vittorie ti aiutano mentalmente, ti aiutano in autostima, in convinzione. Non è tardi, mancano sei partite. La squadra ci crede, lo sta dimostrando. Deve continuare a lavorare perché pecchiamo ancora in tanti errori, in tante situazioni dove la squadra può migliorare. In molte letture, ma abbiamo bisogno di lavorare per ottimizzare il tutto e assolutamente vi posso garantire che ci crediamo fortemente. La squadra per quanto creato meritava la vittoria, però purtroppo siamo sempre penalizzati da queste palle inattive. Loro alla fine hanno creato la palla sempre su calcio d'angolo per chiuderla. Il mio rammarico è soprattutto quello perché manchiamo in alcune letture, manchiamo nella comunicazione, nella vocalizzazione. Il particolare fa la differenza, noi su questo manchiamo. Dobbiamo assolutamente crescere, migliorare, essere attenti perché anche sul primo gol che abbiamo subito ci sono state delle mancanze gravi, molto gravi, perché dovevamo fare altro. Ringrazio la società, il Presidente e il Direttore per averci messo a disposizione la possibilità di rimanere su qui. Quindi sarà una settimana importante, ripeto, soprattutto di lavoro perché abbiamo bisogno di quello. Ci manca purtroppo il tempo per lavorare, per meccanizzare bene i movimenti, le situazioni, capire le letture. E questa squadra deve continuare a crederci e soprattutto a giocare al calcio perché senza di questo speri, noi non possiamo sperare, noi dobbiamo fare. Sì, purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita, a fare il secondo gol che lo meritavamo anche. E purtroppo si sa che quando lasci la partita in bilico poi dopo può succedere qualsiasi cosa. Purtroppo è successo un episodio sfortunato di Pirola che ha sbagliato penso un pallone in tutta la partita perché aveva giocato una grande partita. Peccato, peccato perché appunto si doveva e si poteva andare sul 2-0. Io penso che nell'arco dei 90 minuti ci stia anche un momento nei 90 dove magari soffre un po' anche l'avversario. E oggi è successo a tratti, però fondamentalmente avevamo comunque la partita in mano. Non siamo stati bravi a fare il 2-0 che avrebbe fatto sì che si potesse giocare una partita completamente diversa. Era molto difficile perché loro ci aspettavano nella loro metà campo tutti chiusi con una linea da 4 e una di 5 davanti che ti chiudevano tanto gli spazi. E quindi poi si andava a perdere un po' di fiducia quando si doveva andare a creare. Poi purtroppo è successo un po' quello che non volevamo succedesse. Per ecci dopo tre sconfitte consecutive il Teramo ha ritrovato sabato scorso la vittoria superando nel finale la Turris. Soddisfatto della reazione del gruppo il direttore sportivo Sandro Federico che spiega quanto sarà importante recuperare tutti gli effettivi e arrivare in condizioni ottimali all'appuntamento dei playoff. Ascoltiamolo. Una vittoria a frutto della voglia di vincere, della voglia di continuare a far bene perché questa squadra sta facendo secondo me grandi cose. Contro una Turris veramente organizzata, una squadra che gioca a calcio quindi sapevamo di affrontare anche un avversario difficile. Quindi questa vittoria ha un valore diverso e la squadra ha risposto alla grande. Ma non avevamo dubbi, l'ho ripetuto più volte in questi giorni, perché non ha mai tradito. È una squadra che non ha mai tradito le attese. Poi probabilmente qualche passaggio a vuoto c'è stato, ma credo che faccia parte anche di una normale crescita in un gruppo comunque con tanti ragazzi anche giovani. Quindi andiamo avanti per la nostra strada. Siamo convinti e consapevoli che possiamo divertirci e possiamo regalarci ancora delle soddisfazioni. Ci siamo, dalla prima giornata, che siamo lì in una buona posizione di classifica, abbiamo un po' perso terreno perché è normale, sono uscite fuori anche le squadre veramente attrezzate. Noi siamo sempre lì aggrappati a questo treno. Quindi la vittoria ci serviva soprattutto per arrivare ai playoff in una condizione ottimale. E credo che sia fondamentale, anche grazie al recupero di Belligea, Kappa, Soprano, e tanti ragazzi che comunque venivano dalla sede di infortuni, credo che sarà importante soprattutto arrivare in una condizione eccellente. Questo che farà la differenza. Ecco perché dobbiamo affrontare al massimo queste ultime quattro partite e i playoff. Perché vogliamo dimostrare a tutti di poter restare a Teramo e perché c'è tutta la volontà e la voglia di continuare un determinato progetto. Io credo che sia quasi, ripeto, naturale. L'importante è che c'è la volontà di fare le cose per bene. In Serie D domani allo Stadio Tamburrini di Montegiorgio il Pineto recupera il primo degli otto match saltati nelle settimane precedenti a causa Covid. Per i biancazzurri di Marco Pomante l'obbligo di fare punti per tirarsi fuori da una situazione complicata in classifica. Fischio d'inizio alle ore 15. Ascoltiamo le impressioni del tecnico del Pineto alla vigilia della gara. È una partita difficile ma come tutte del resto. Perché questo è un girone difficile, tre incontri squadre organizzate. Domani affrontiamo il Montegiorgio che, come hai detto tu, ha dato filo a torcere a tante squadre pretendenti alla vittoria. Noi dobbiamo andare lì a fare la nostra partita cercando in tutti i modi di vincere. Ma il lavoro normale è tanto da quello che dobbiamo fare. È tanto. Dispiace perché in queste tre partite abbiamo raccimollato pochi punti e secondo me meritavamo più punti di quelli che abbiamo fatto. Però, come ho detto prima, questo è un campionato difficile. Dove vai a incontrare squadre organizzate e devi essere bravo a curare bene i dettagli e a giocare le partite con più concentrazione. No, no, beh, io questi ragazzi sono incomiabili. Io non gli posso dire nulla da quel punto di vista. I ragazzi danno tutto. dal primo giorno che li ho conosciuti a me mi sono sempre venuti dietro e sono dei ragazzi che ci tengono molto alla causa. Giustamente mentalmente sono un po' abbattuti perché non riescono a trovare questa vittoria che secondo me ci serve tanto ma soprattutto più che per la classifica ma per il morale perché io non dimentico sempre che questa è una squadra che è tanto tempo che non vince. Quindi vogliamo raggiungere questa vittoria il prima possibile perché ce lo meritiamo se lo meritano i ragazzi se lo meritano la società ma poi è una vittoria che una volta che arriva poi ti libera mentalmente. Domani con il Montegiorgi fare una grande partita di portare a casa i tre punti perché come ho detto prima ci teniamo ci teniamo e soprattutto ce lo meritiamo. E questa era la nostra ultima notizia questa sera su TV6 alle 21 come ogni martedì andrà in onda a Proteramo e a seguire qualche minuto dopo le 22 ci sarà uno speciale dedicato al sisma che sconvolse l'Abruzzo 12 anni fa è una trasmissione promossa dalla Onlus Avus l'associazione vittime universitarie del sisma una trasmissione che sarà ricca di monologhi e concerti davvero toccanti perché passano gli anni ma la ferita per quelle 309 vittime è ancora aperta e probabilmente lo sarà per sempre appuntamento quindi poco dopo le 22 su TV6 grazie per averci seguito il TG6 tornerà alle 23 con l'edizione della notte buona serata grazie per aver guardato